La prossima canzone è l'exercito di un'introduzione abbastanza lunga, quindi se vuoi dire per me C'è l'abbiamo con nessuno noi, c'è l'abbiamo con nessuno, c'è l'abbiamo con nessuno No, non lo so, non lo so, stai che fa qualcosa che vuoi da qua, io mi fai più in quadro, perché il suono non ti viene Il problema è tornare a casa, cioè andare a lavora e trovare tutta quella gente che ti impedisce di marciare a una certa velocità Ma il lavoro è il mio cane? Proprio oggi vengo a vedere la città di casa, dove io mi passi, sono giusti, sono giusti Il cuore di traffico e... Tutte le cose sono maledetto, di podo, di podo Sì, ma stiamo parlando di ciclisti, no, cazzo C'è il mio marito, è il mio marito È il mio marito, è il mio marito Sulle le mani ciclisti Non c'è nessuno Lui, lui insomma se anche voi, anche noi, avete una sorta di benvenuti il passamontagna E' un pozzo, non? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.